Padre Celeste grazie per avermi dato modo di conoscerti attraverso tuo figlio Cristo Gesù, conoscere il tuo carattere, la tua natura, la tua volontà. La tua parola è verità e nulla può paragonarsi ad essa. Non voglio quindi dar per scontato la scrittura ma desidero apprezzarla, riconoscerla e meditarla con l'aiuto del tuo Spirito Santo perché essa sola ha il potere di cambiare la mia intera vita. Nel nome di Gesù. Amen.